Buongiorno, in questa presentazione parleremo di Big Data Analytics e intelligenza artificiale per Business Intelligence. Io sono il professor Damiano Cara del Dipartimento di Informatica dell'Università di Gavone. Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare sempre più spesso di termini come appunto Data Science, Data Mining e Big Data Analytics appunto o Machine Learning e Business Intelligence. Ovviamente tutti questi dati in qualche modo hanno qualcosa in comune, c'è una parziale sovrapposizione tra le tematiche trattate di fatto in queste discipline e c'è una interdipendenza tra alcune di questi, alcuni di questi termini, alcune di queste discipline. Ciò che comunque li accomuna è il fatto che l'idea è l'idea di partire da un insieme di dati raccolti in diversi modi e di cercare di estrarre informazione che ci può essere utile e quindi conoscenza dai dati stessi. Ora quando parliamo di conoscenza però ovviamente abbiamo a disposizione diverse possibili definizioni. Noi abbiamo a disposizione diverse sorgenti di dati che possono produrre diverse tipologie di dati. Possiamo avere dei dati appunto legati più al business e quindi alle vendite e cercare di analizzare questa tipologia di dati oppure grazie all'avvento dell'industria 4.0 noi abbiamo a disposizione dei vari sensori sui nostri macchinari e quindi possiamo recuperare informazione anche da queste fonti di dati per ad esempio fare manutenzione predittiva. Oppure possiamo avere anche vari fattori esterni che andiamo a leggere attraverso che ne so i social network, andiamo a interpretare ciò che sta succedendo e quindi se c'è un impatto del business in generale appunto sulla popolazione. Quindi l'idea della conoscenza è quella di cercare di analizzare lo storico per interpretare quello che è successo e ottenere delle spiegazioni per risultati appunto ottenuti se andiamo ad esempio a considerare la parte del business e appunto delle vendite. L'idea di combinare diverse fonti è anche quello di cercare dei pattern complessi quindi delle spiegazioni che non siano limitate solo a un sotto insieme di dati ma appunto a un insieme di fonti di dati che possono essere diverse. L'altro concetto di conoscenza invece non è solo basato sullo storico ma anche invece è basato sulla predizione quindi conoscenza è anche legata anche alla capacità di poter prevedere che cosa sta succedendo e quindi individuare i vari trend e rispondere di conseguenza a tali previsioni. Quindi quando parliamo di business intelligence questo è stato il primo approccio storico in cui si è cercato di passare da un modello in cui le decisioni di business derivavano principalmente dall'esperienza personale quindi attraverso l'esperienza personale si costruiva una sorta di modello per poter giudicare le diverse situazioni e analizzare le diverse situazioni e quindi si prendevano decisioni di business. Ovviamente questo processo era un processo che era influenzato ovviamente dall'esperienza personale e poteva non essere contenere degli errori legati alla visione limitata e parziale della della situazione. Per questo sono state introdotte diverse applicazioni che raccogliendo e elaborando e visualizzando i dati sono state in grado di aiutare appunto il o incrementare il migliorare il processo di elaborazione appunto di questi dati per poter prendere delle decisioni di business. Quindi possiamo vedere la business intelligence come un'organizzazione strutturata dei dati storici. Quindi io vado a raccogliere i dati storici e cerco di dargli un modello di ristrutturarli in modo da poterli analizzare con più facilità. Questo processo quindi dai dati business alla loro aggregazione per poter aiutare il giudizio e arrivare delle decisioni di business ovviamente è un processo continuo che continua a reiterarsi perché le decisioni di business ovviamente hanno un impatto sui risultati ottenuti e quindi sui dati che dopo vado a raccogliere e analizzare successivamente. Quindi questo processo appunto continua man mano che io vado a raccogliere i dati. La fase di aggregazione e di analisi dei dati può rientrare sotto il cosiddetto cappello del data mining. Data mining sono un insieme di tecniche che ci permettono appunto di estrarre informazioni oppure estrarre delle relazioni tra i dati che io ho raccolto e quindi in questo modo cercare di costruire delle spiegazioni o comunque delle cause tra delle azioni che sono state svolte in passato e i dati che io poi sono andato a raccogliere. Ovviamente per poter adottare queste tecniche c'è bisogno di una conoscenza approfondita del contesto quindi di persone che siano in grado effettivamente di estrarre questa conoscenza dei dati conoscendo l'ambito di applicazione o la provenienza dei dati stessi. L'aspetto positivo del data mining è quello che i risultati che tipicamente offre il data mining sono risultati che sono spiegabili quindi dato un risultato si può risalire a quali dati hanno effettivamente prodotto quel risultato e questo è estremamente importante perché questo aiuta poi a prendere delle decisioni successivamente basandosi su appunto i dati storici e le spiegazioni che uno riesce ad ottenere attraverso l'analisi dei dati storici e quindi si riesce a interpretare il passato per poter prendere delle decisioni in futuro informate nel futuro. Chiaramente con l'avvento di appunto sensori che sono in grado di raccogliere i dati e fonti di dati che sono sempre più disponibili è chiaro che la disponibilità di dati nel tempo è cresciuta e quindi è cresciuta proprio perché data una singola fonte io continuo a raccogliere questi dati e con nuove fonti mi si aggiungono appunto nuove nuovi dati quindi questo pone delle nuove sfide come la gestione della memorizzazione dei dati stessi o l'analisi stessa di questi pattern che diventano sempre più complessi proprio perché io vado ad abbinare tempi di analisi più lunghi e periodi di analisi più lunghi e dati da fonti diverse che quindi possono essere integrate tra di loro. Quindi la soluzione per questa sono state tutta una serie di nuove tecniche che vanno sotto il cappello del Big Data Analytics che sono sostanzialmente estensioni dei concetti visti nei Big Data Mining nel caso appunto del Big Data considerando che quando si parla di Big Data ovviamente non abbiamo solo una questione di volume cioè del fatto che i dati sono in continuo aumento ma in realtà quello che ha un impatto maggiore su questo processo è il fatto che la generazione dei dati avviene a una frequenza sempre più grande quindi io non devo avere degli strumenti che mi permettono di analizzare questi dati con la stessa velocità con cui questi vengono prodotti. E l'altra caratteristica di Big Data Analytics è il fatto che appunto cercano di integrare il più possibile le diverse fonti considerando che le diverse fonti appunto portano anche diversi tipi di dati e quindi non solo numeri e testi come è stato fatto tradizionalmente ma anche immagini, audio e video da cui estrarre il contenuto per poter correlarlo con i dati di business che sono stati ottenuti fino a quel momento. Quindi abbiamo un approccio questo Big Data Analytics introducono un approccio che è alternativo e che integra appunto queste diverse fonti nell'analisi dei dati strutturati che era quella dell'analisi storica in cui il dato appunto veniva strutturato. Nel caso di Big Data Analytics si cerca di analizzare tutti i dati che vengono chiamati non strutturati o parzialmente strutturati, su cui c'è un minor controllo di qualità e quindi c'è una richiesta diversa di tipologie di analisi che possono essere svolte. Come si inserisce l'intelligenza artificiale in tutto questo processo? Allora l'idea è che l'intelligenza artificiale possa aiutare nell'effettuare questa tipologia di analisi. Quindi io parto sempre comunque dalle mie sorgenti eterogene e attraverso strumenti di intelligenza artificiale la fase di aggregazione e di analisi e di visualizzazione dei miei dati avviene appunto in maniera automatica e quindi attraverso degli strumenti specifici riesco a ottenere dei pattern che risultano meno evidenti risultano poco evidenti se analizzati gli stessi dati con tecniche tradizionali. In aggiunta a questo fattore quindi a questo cammino che in qualche modo va ad automatizzare la parte di analisi dei dati l'intelligenza artificiale ci permette anche di andare analizzare non solo i dati ma anche le azioni intraprese. Quindi lo step qui successivo è quello di dire analizzo non solo il dato stesso ma lo combino con le azioni registrate in passato per cercare di capire di estrarre una causalità tra questi eventi e cerco di imparare questa causalità per suggerire possibili azioni nell'analisi dei dati e quindi nelle decisioni di business. E questo fattore di predizione rappresenta ovviamente la novità rispetto a un'analisi dei dati storico tradizionale. I limiti dell'intelligenza artificiale ovviamente sono legati al fatto che l'interpretabilità spesso non è garantita. Quindi il dato mi serve, i dati storici mi servono per creare appunto un modello, per addestrare un modello che mi permetta di fare ad esempio delle previsioni, delle classificazioni, ma come si arriva poi al risultato una volta che il modello è pronto per essere utilizzato ed è messo in produzione, come si arriva al risultato spesso è difficile tornare indietro e capire quali sono stati i dati che hanno determinato una scelta ad esempio o un output del nostro modello. L'altra caratteristica è che richiedono una profondita conoscenza degli strumenti, quindi non solo del contesto in cui questi operano, ma anche degli strumenti che vengono effettivamente utilizzati, perché i vari strumenti che rientrano sotto il cappello dell'intelligenza artificiale o del machine learning, in qualche modo hanno caratteristiche diverse e quindi bisogna conoscerli approfonditamente per capire quali possono essere utilizzati. Un esempio di applicazione di intelligenza artificiale nell'ambito della business intelligence, ad esempio, è quella della creazione di nuove analisi dei dati partendo non da una programmazione in cui un modello che veniva creato dallo specialista, ma partendo da istruzioni espresse in linguaggio corrente. Osservando le analisi fatte precedentemente sui dati se chi deve analizzare i dati ha bisogno di creare nuove viste o nuove analisi, invece di passare attraverso processi che potrebbero essere lenti nel creare queste nuove analisi, gli interpreti di istruzioni espresse in linguaggio corrente riescono a tradurre poi l'analisi del dato stesso e a mostrare il dato in tempo reale. Quindi in questo modo si accorcia la catena tra il desiderio, cioè in senso espresso in che tipo di analisi io voglio fare e il risultato stesso dell'analisi stessa. Quindi non solo posso fare un'analisi dello storico andando a variare, che ne so, le finestre temporali su cui questo storico viene fatto, ma posso anche fare analisi del tipo what if, cioè che cosa sarebbe successo se andando appunto ad abbinare delle diverse fonti e delle diverse finestre di dati per poter fare questo tipo di analisi. Un altro esempio su cui può essere applicata l'intelligenza artificiale è quello dell'analisi delle azioni stesse, quindi non solo dei trend, ma l'analisi delle decisioni passate e il loro impatto su quelle future possono essere poi codificate in un modello per essere poi presentate all'utente e per aiutarlo nelle sue decisioni. Quindi abbiamo in questo caso un modello in cui abbiamo le nostre decisioni di business sono assistite dall'intelligenza artificiale. L'altra categoria di operazioni che può fare l'intelligenza artificiale è quella della pulizia dei dati, nel senso che se i dati contengono delle anomalie, avere la possibilità di identificare queste anomalie è estremamente importante per ottenere appunto una qualità del dato. Ed è questo il punto principale, effettivamente il fattore comune tra tutte queste tecniche. A partire dalla business intelligence, poi dalla big data analytics e infine sull'intelligenza artificiale, la gestione del dato è fondamentale. Che cosa vuol dire gestione del dato? Vuol dire una raccolta appunto di dati, quindi da dove provengono questi dati, una pulizia nel caso appunto di dati che possono essere corrotti e una verifica appunto della qualità del dato stesso. In definitiva la qualità della conoscenza estratta dai dati è determinata ovviamente dalla qualità dei dati. Un rumore presente nei dati stessi è chiaro che influisce, che ha un impatto negativo sui risultati che poi si ottengono, quindi sia in termini di analisi del passato sia in termini di previsioni. Quindi questo rappresenta un fattore estremamente importante che deve essere considerato. Quindi serve una costante verifica dei processi di elaborazione dei dati per poter garantire appunto la qualità del dato. Quindi andando a riassumere che cosa, i termini che abbiamo utilizzato in questa presentazione, quando introduciamo tecniche di intelligenza artificiale o di machine learning nell'analisi dei dati, noi abbiamo a disposizione degli strumenti estremamente potenti per poter estrarre delle informazioni. Ma per poter fare questo, per poter estrarre un'informazione di qualità, servono una quantità di dati, una grande quantità di dati di qualità per poter fare appunto l'addestramento dei nostri modelli ed essere in grado quindi di fare sia di estrarre informazioni sia di fare appunto predizioni. Per poter fare questo ovviamente chi opera in questo ambito deve avere una profonda conoscenza del dominio di applicazione e degli strumenti appunto utilizzati. E questo è un processo continuo, cioè continuamente deve essere analizzato l'output, deve essere analizzato la gestione del dato e gli strumenti che appunto vengono utilizzati. Con questo concludo la presentazione, questa breve presentazione sull'argomento. Questi sono i miei contatti in caso di domande e di dubbi.